Ok bentornati a tutti, purtroppo oggi internet non andava troppo bene qua su dove sto adesso a casa ma non preoccupatevi che in futuro cercherò di andare in un ufficio quindi avere una connessione internet un pochino migliore Allora quello che andiamo a vedere adesso è essenzialmente un po' un recap di quello che stiamo vedendo oggi quindi oggi durante la prima mezz'ora di New York avevamo identificato questo come no trade range e cercando o sopra delle situazioni long oppure quando il prezzo avesse rotto presso il basso queste da qua a qua avremmo cercato delle operazioni short adesso come potete vedere hanno trade range come possiamo vedere durante, come ho anche detto specialmente dopo London Close succedono le belle operazioni già prima comunque questa volta durante New York Stock Exchange durante la nuova candela delle 4 ore abbiamo visto che il prezzo ha fatto sì un break sotto questo livello non ha proprio rispettato bene bene il nostro livello 49.000 flat ha fatto un retest però di questa situazione che era stata già segnata da mattino quindi non è che abbiamo segnato apposta e come potete vedere ha fatto un retest perfetto e poi una candela impulsiva bearish verso appunto dandoci possibilità di fare operazioni short su quella ok ok comunque le dovute conferme come potete vedere qua ha già fatto un full TP in qualche minuto se andiamo avanti come tempo vediamo che il prezzo ritorna molto aggressivamente qua in alto ha la stessa zona di interesse 49.000 flat rompe e reagisce e arriva fino qua sopra alla nostra zona intermedia 49.100 vediamo che però sta andando impulsivamente ancora verso il basso potremmo anche dire essere aggressivi e entrare qua e già non mi ricordo più cosa succede dopo come succede però questa volta deve essere già una conferma del trend che sta recuperando non la migliore price action se uno aspettava qua sotto forse era meglio nel caso comunque uno esce è entrato qua esce qua con 8-10 pips di perdita e va benissimo guarda la reazione ha lo stesso livello di interesse della mattina e ok vedere forse il trend sta ritornando quindi prezzo di zona di interesse ovviamente sotto i 48.800 ok stiamo andando bearish facciamo un po' di di ranging di consolidation vediamo se abbiamo queste dovute conferme comunque sta facendo un nuovo massimo decrescente come possiamo assolutamente vedere vogliamo semplicemente che ecco torni il volume qua sotto quindi potremmo anche piazzare una volta che questa candela rompe entrare o a mercato o a con il nostro sell limit e vedere un po' se ci va direttamente il prezzo vedo che si muove già bene e ci va direttamente a tp ovviamente sul minuto purtroppo non ho memoria quindi ok va tp 45 pips potremmo anche aver preso questo e aver perso anche 10 pips qua ma saremmo comunque in profitto abbiamo ritest dei ppl perfetto ovviamente questa è un'entrata impossibile però andiamo a cercare il proseguo di questo trend questo potrebbe essere una situazione carina stessa idea spezzare un sell limit over there e vediamo un po' ripeto non mi ricordo le cose quindi ok se chiude qua potremmo uscire qua con 7-8 pips e aspettare e rientro se non è se mi chiude qua se mi chiude qua che è a 7-8 6-7 pips io metto in realtà qua potrei anche lasciarlo a 15 se ho già fatto questo trade vincente potremmo vedere se mi va a stop loss qua sembrerai visto che c'è stata una bella rejection potrebbero anche andarmi tornare verso il basso la prossima candela è un po' indecisa potrei decidere che se un'altra candela mi chiude qua sopra esco ok non le candele più belle però per ora siamo buoni però qua direi che usciamo con 10 pips di perdita senza proprio senza problemi tanto se il trend deve proseguire che prosegua che prosegua senza di noi che prosegua dandoci un'altra conferma per rientrare short per questo che mi piace uscire anticipato ok però fammi mettere qua perché btc10 pips ok però siamo usciti a 10 bellissimo tanto non conta dove usciamo conta in questo caso che è una perdita ok vediamo che siamo andati più su quindi abbiamo risparmiato un bel cinquello di pips vediamo se adesso abbiamo qualcosa di più impulsivo verso il basso ok il prezzo rimane sotto ok molto impulsivo non abbiamo avuto molto tempo adesso siamo un po' troppo lontani per dire si guarda se mi fa una wick qua se mi fa una wick io entro a sell limit però perché no cioè c'è molto volume potrebbe anche fare una wick in questo caso per esempio non ve la fa e va andrebbe a tp ma ovviamente non vi fa questa wick perché comunque siamo già a metà strada siamo già a 10 pips dal ppl quindi siamo abbastanza in là con i tempi e siamo praticamente live esatto siamo live quindi comunque avete visto questo era una carina perché quasi aumentati qua tp tp una perdita qua e una seconda perdita qua quindi abbiamo perso che ne so un 20 pips e abbiamo presi 90 quindi direi che è più che buono questa è una situazione carina però purtroppo non non c'era effettivamente una possibilità di entrata secondo quello che vedo io fosse stata una candidata tipo questa sarebbe stata molto più carina molto più interessante ma invece è stato piccolo piccolo e poi subito impulsivo forse qua sotto forse è stato un pochino distratto in effetti sì cioè se fossimo stati qua ok vediamo che c'è stata una reazione la prima reazione fatemmo fare quella trendline qua qua perfetta sul esattamente sullo stesso livello di prima 1 2 3 4 minuti che chiudono lì chiudono e aprono lì perfetto vediamo la prossima abbiamo un retest abbiamo un pullback abbiamo questa candela che è molto forte ribassista si reagisce ancora qua ma sta chiudendo molto forte cioè fa appunto ripeto 10 pips qua forse un po' un po' un po' così perché se mi fosse chiusa sotto di sicuro avrei detto di sì qua mi sembra un po' un po' forzatina un po' un po' che cioè sapevo già che andava a profitto ma fa niente tanto non siamo qua per vedere chi ce l'ha più lungo ma siamo qua per imparare un po' di price action un po' di setup per poterli applicare in real time invece oro 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 qua abbiamo visto che ci ha dato 20 pips il movimento che abbiamo visto qua sopra questo livello ma qua è anche lui un no trade range uguale quindi la differenza cioè non è che siamo un bias verso il bias quando vediamo che il prezzo fa questa reazione qua era impossibile entrare qua era impossibile entrare però questa è la zona di interesse il 1815 che ne sto parlando da chissà quanto tempo guardate qualche tre reazioni che vi ha dato quindi mi siete persi questa qua si è ovvio mi potevate entrare come potevi entrare qua dentro soltanto con 3.07 solo se per culo avevi un sell stop qua sotto le tue cc piazza sell stop e poi stop quello che viene attivato viene a caso ed è un 50-50 cioè è come come giocare come fare scommesse nulla di che invece abbiamo qua nella reazione vediamo che c'è stata una prima reazione molto forte non vi dico di entrare qua alla prima candela perché in realtà non c'è un segnale a parte questa strong pinbar non c'è un segnale di esaurimento che dice ok i sell i venditori tra virgolette praticamente mi sono entrati questa candela lo è forse piazzando il 50% qui va solo a 20 pips con uno stop loss realistico di 10 pips bassino però vabbè qua invece abbiamo qualche possibilità in più qua per esempio questa è una candela che mi piace molto questa è una candela in cui monterei a mercato alla chiusura qua ovviamente siamo in un range più grande dobbiamo dare i 15 pips vediamo che rimane sopra alla nostra sotto la nostra zona di interesse e poi dopo va a pp fa tp e fa anche tp come possiamo vedere era quadrava quasi bene con o la wick quadrava molto bene con la wick ma anche comunque con questa zona di interesse quindi sappiamo che se anche dovesse reagire in primis i nostri 30 pips di parziali venivano presi secondo è molto probabile che anche prima di reagire un piccolo overshooting lo farebbe lo farebbe quindi questa è un'entrata molto carina ovviamente la migliore sarebbe stata questa non drawdown qua vediamo sì che prezzo va però non ci chiude mai sopra la nostra zona di interesse relativa al nostro ingresso 18-12-500 ppl key level storico vi da una reazione on the dot anche qua dove entri forse si vedi questa candela ed entri a sell limit qua dentro quando vedi la prima candela rossa entri qua sell limit gold 15 pips qua dai 10 sei già abbastanza perché comunque hai abbastanza range e state a poi decidere se vuoi il final tp a 30 o quantomeno prendere i parziali ci arriva nemmeno perché vedi se fai 10 devi farti il devi farti il gold short a 10 pips e 30 pips poi ti devi prendere il parziale a 20 perché fate alla reazione esatta purtroppo c'è a 20 al parziale poi a 30 al final tp purtroppo in questo caso non ha fatto nessun tipo di overshooting e poi vai togli a break even e niente voglio fare un po' recap visto che oggi ho avuto un po' di problemi con internet durante il live però volevo un pochino guardare un attimo la press action della giornata così da guardare un po' e farci un po' l'occhio che fa sempre bene ripeto da gennaio non lo so ho messo sto metterlo in considerazione sto pensando di farmi appunto un bel andare in un bel ufficio una sorta di co-working space così da avere la linea internet comunque sempre buona e avere anche meno distrazioni come dice lavorare a casa dal laptop questo è il laptop non sto nemmeno usando il monitor e si muove molto carino un bel laptop da 17 pollici quindi devo dire che la distanza che il monitor è buono e e niente ricordate se vi è piaciuto lasciate un like se volete anche un commento se volete farmi delle domande io sono disponibile a questo come vedete mi piace molto parlarne e quindi ci vediamo alla prossima dai ciao a tutti